Sergio Berlato, deputato al Parlamento europeo e coordinatore del Popolo della Libertà della provincia di Vicenza, interviene in merito al futuro dell'Istituto Tecnico Industriale di Valdagno Marzotto, che rischia nei prossimi mesi di perdere la propria autonomia e di venire accorpato all'Istituto Luzzati a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di 600 studenti. Occorre un certo livello di miopia politica per non rendersi conto dell'importanza di mantenere in vita con la propria autonomia un istituto tecnico come il Marzotto, ha dichiarato Berlato. Grazie a tutti.